C'è un triste episodio di questi giorni che sottolinea l'importanza della comunanza di studio che attraversa le frontiere. Tutto il mondo dello sport, ogni parte del mondo, in ogni continente, era attristato dalla morte di Kobe Bryant, con una tristezza che ha fondamento non soltanto per la sua capacità, la sua popolarità, ma per il nostro Paese, perché si era formato qui, nelle nostre scuole elementari e medie. E' la comunanza di studi, è quella che lega davvero al di sopra e molto di più dei legami politici, istituzionali ed economici che lega l'umanità attraverso i suoi confini.